Una corsa sui beni confiscati alla criminalità organizzata alla presenza del presidente di Libra, Don Luigi Ciotti. L'iniziativa si darà domani, mercoledì 8 novembre, a Battipaglia e sarà la manifestazione conclusiva di una tre giorni di dibattito all'insegna della legalità e dello sport. Alla staffetta prenderanno parte circa 400 studenti dell'IS Santa Caterina, Amendola di Salerno e il liceo scientifico Enrico Medi di Battipaglia. I corridori, a partire dalle 9.30 di mercoledì fino alle 13, correranno in via Gonzaga intorno al Caffè 21 Marzo, simbolo della lotta alla criminalità organizzata di Battipaglia. Il testimone, che dovranno passarsi i vari staffettisti, poi rappresenta un simbolo del dramma che proprio in provincia di Salerno ha colpito così forte. Il legno utilizzato per il testimone, infatti, è stato ricavato da un barcone di migranti giunto all'Ambedusa. Prima della corsa, però, sarà dato spazio anche alla formazione di studenti dei due istituti scolastici, terranno un primo incontro formativo dedicato all'educazione ambientale, curato dai carabinieri forestali del reparto biodiversità di Caserta. Il secondo, invece, sarà dedicato allo sport e vedrà la partecipazione di alcuni membri del gruppo sportivo dei carabinieri. Grazie a tutti.